Eccoci a Lampkin Lane Un'altra mappa che ci piace molto Stasera è qui Perché mi sembra più luminosa invece Lampkin Lane? Lampkin Lane sembra più luminosa Invece quella sembrava più buia Killer è qui Ha appena tolto il raggio di terrore Quindi è Ghostface? No ce l'ha il raggio di terrore Oddio che hanno combinato E' tutto terreno qui E' il clown comunque C'è una Lampkin Lane che non conosciamo Si è tutto terreno Cioè non c'è la strada? Eh no c'è la strada Però non c'è più l'erbetta sul suolo Ah ok L'hanno alleggerito diciamo Veramente fa schifo secondo me Mi piace proprio Mi piace più l'erbetta Vabbè Ottimo Questi almeno fanno qualcosa Sono io Ok Allora Il team Prizio fa qualcosa Gli altri non fanno niente Ma mi era mancato muovere Che l'ho detto così Però devo dire Eh si Devo dire mi era mancato molto Let me see if I can bully this club He's coming for me He's coming Vabbè vado alla casa di Michael Mervos Cioè il monoposto Vai 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 Qui la finestra è chiusa Vai 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 Io sto seguendo il clown Vedo se riesco a salvare questo pancrazio Si può salvare Giampa Grazie Salvato Si può salvare Bravo Desi 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 When you find Prizio Che succede? When you find Prizio In the lobby You better desi Sta salendo qua? Sta seguendo pancrazio Che è vicino a te Dove sta che non lo vedo? Favo sotto di me Sì sì Sotto di me sta salendo Mi ha visto ragazzi Quindi devo prendere un colpo E devo scappare Più veloce la luce Jack aiuto Vai 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 Non ti sta seguendo Ok Non mi sta seguendo Quasi finito quel genno E' a buon punto comunque Cioè il basement Vabbè lo state vedendo insomma Ok Ok Tuterino calling Stava bene esserci un basement party e vocale No problem my friend No problem Io voglio provare a finire questo genno Nooo dude Accidential dude Body block Body block Stava bene Do you can do that with body block I can do that with body block Body 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 block Body body block Sta campericchiando eh Vai Jack Fatto E' da Stava tornando ai sim vabbè qua è fatto grande fai fai dai claudarines no ma quello gli da la morte però che noioso questo si sta facendo un claudetto ma non c'hai cura di sé non è possibile look at my beautiful charms now let's escape ha ucciso questa povera crista che tunneling spietato si ora sta seguendo l'altra claudetto vabbè io scendo di sotto vorrei provare a prendermelo io in qualche modo non mi sa che ok qua c'è un gen mette su un gen eccolo willow isp 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 willow is stavo scherzando non sono più abituato popola non ce l'ho fatta sono sotto al palletto va bene va bene e io so finendo il gen ok finisci il gen in realtà non so se ce la faccio per il tempo che tu mi ci ne viene qua eventualmente state tutti e due su un gen Claudette si è appena scappata il gen è quasi finito peccato fa una cosa finisci quel gen salvami chiudiamo il gen e ce ne andiamo mi sembra un ottimo piano se non viene qua Claudette corre verso il tuo edificio ma lui la ignora lui torna da me siamo con questi ti prepari al tunneling più spietato? si si dov'è? non lo vedo forse è andato via vieni vieni no senti il raggio di terrore ce l'hai borrow time vai 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 ok ciao madonna mia grazie grazie ah ma c'ha delle boccette velenosissime e vuole te mi ricco qua Jack mi sto curando bravo 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 Gian Pancrazio bravo hello mother fucker l'ho perso vai il gen è dove sta funcinato io si aspetta mi devo difendere se no qua è finita non mi ha visto tutto a posto è passato dalle mie parti si si infatti sta là lo vedo molta paura sta calciando un gen può essere quello questo è così triste potrebbe avere il no questo è così triste potrebbe avere il no è vero che si dice con il gen mandorle no sta inseguendo qualcuno sta seguendo quello detto vabbio vabbio beh questo è questo gen è sotto la metà viene qua viene qua ma bambusolo allora c'è bambusolo aveva pop costruiso non lo rompia ma dov'è lui? beh mi sa che mi ha lasciato chissà che sta facendo perché mi lascia beh ho schiattato un pallet in faccia ma non mi sembra sei arrendevole allora sei proprio una merda arrendevole forse è fissato con quel gen non mi ha visto entro in casa non so come ho fatto ok se ne è andato allora un gen è qua e l'altro sto facendo io vai cominciare un altro vabbè mi curo un altro per cento ma è sempre di quello lì comincia a cercare un'uscita eh allora magari mi avvicino per salvare wabi ok salva wabi guardati le uscite mo che escono tre secondi fatto uno e due perfetto due lati di merda wabi che infine fa no non è vero ok bisogna andare a quella alla destra di wabi ti trovi? si lui ovviamente può camperare tutte e due le cose ma wabi è proprio davanti all'uscita posso salvarlo al volo? vai borrow time buonezza ci ha aperto lui l'uscita eh vuol dire che c'ha no peggio secondo me non è il lord via via io esco ok si può uscire no pensavo ci avesse il coso di freddy kruger l'ho salvato l'ho salvato mentre faceva il suo scherzetto vai 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 ciao ciao vediamo se c'è il coso di freddy kruger no no sarebbe bloccato no perchè io l'ho salvato un secondo prima che lui aprisse l'uscita quindi nel caso l'avrei fottuto ma non è così non ce l'aveva prizio you are my hero ah è quello che è stato quello che è stato quello che è stato vergognosamente we tried so hard we tried so hard cos'è il no fam cosa è il no fam dove ho la più paliera gg guys prizio you are my hero ma questa la chiamerebbe così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti